Buongiorno a tutti, devo fare una piccola correzione, soltanto non sono più il Presidente da una settimana dell'Associazione, è colpa mia, il nuovo Presidente Giuseppe Catalano di Assicurazioni Generali. Buongiorno a tutti, è un grandissimo piacere essere qui ancora una volta a portare i saluti dell'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa, agli organizzatori, ai relatori, a tutti i partecipanti. L'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa è un'associazione che è stata fondata più di 40 anni fa, nel 1976 a Milano, conta circa oltre 1200 associate di aziende italiane e straniere in Italia e è stata fondatrice dell'European Company Lawyers Association, l'ECLA, che conta più di 40.000 associati in tutta Europa. Uno degli elementi fondanti e degli obiettivi fondanti della nostra associazione sin dall'inizio è stata la diffusione della cultura della legalità e nell'ambito della cultura della legalità ovviamente della concorrenza e della cultura dell'etica aziendale all'interno del mondo imprenditoriale italiano. In questo ovviamente noi abbiamo partecipato negli anni, negli anni anche con le associazioni imprenditoriali cercando di portare il nostro contributo nella diffusione della concorrenza in Italia che è così essenziale per il benessere della società. Il quinto convegno di oggi è un convegno importante per i temi trattati, l'autorevolezza dei relatori e guardando agli argomenti è evidente la vivacità, la versatilità, l'evoluzione del diritto antitrust che si accompagna ad una complessità, ad una difficoltà nell'interpreazione. Sia il regolatore che l'operatore del diritto che lo specialista ha la necessità di cogliere i cambiamenti nell'economia, i cambiamenti nella conduzione degli affari e cercare di portarli a regola costantemente, direi vista l'evoluzione tecnologica quasi freneticamente. Credo che è una grandissima sfida che ogni giorno ciascuno di noi cogliamo e io sono contento come associazione di dire che abbiamo ormai instaurato sia con i colleghi del Libero Foro ma anche con l'autorità un ottimo canale di comunicazione perché pure se da punti di vista forse opposti o non necessariamente coincidente il confronto e l'incontro di idee è sempre proficuo. Quindi colgo l'occasione per ringraziare nuovamente gli organizzatori e tutti i relatori per questa occasione di incontro, approfondimento e studio che sicuramente sarà molto proficuo. Buon lavoro.